Buonasera, qui stiamo decidendo cosa dobbiamo dire questa sera, sì perché ogni sera bisogna dire qualcosa intelligente, giusto? Quindi ci siamo portati qualcuna che speriamo dica qualcosa di intelligente da parte nostra. Dica qualcosa. Bene, fatemi qualche domanda e... Ma non è l'intervista, cioè devi dire una cosa spontanea. Innanzitutto volevo dire che in questo locale ci erano i matti, alias un certo Gianluca del Torri che fa su e giù, su e giù, ho capito chi sta aspettando. Poi lei detta la Paola, anche un po' ubriachella, è il settimo drink, ma volevo far notare queste scarpette in IEA, dove le ha comprate? Da mangiatrice di uomini. E' vero, da mangiatrice di uomini. Con questo sembra o lei che sembra un pink pelle. Pelle vera, di uomo. Hai ragione. Ariecco quello che fa su e giù. Salutatelo. Salutate, ciao Gianluca del Torri. Vi salutiamo alla prossima volta e anche stasera le tre stronzate le abbiamo detto. Uno, due, tre. Buonanotte. Buonanotte.